Siamo con Paolo Duneddu, coordinatore del 118. Questa è una base logistica fondamentale per il 118 perché qui avviene la sanificazione dei mezzi che trasportano pazienti Covid o sospetti tali. Come funziona, Paolo, questa stazione? Esatto, qui siamo all'interno dell'area dell'ex aeronautica militare di Modena, quindi sotto l'effigie dell'Accademia Militare, dove è stata all'interno di un hangar creato il percorso per la sanificazione dei mezzi, un lavoro congiunto tra operatori 118 e vigili del fuoco, perciò i mezzi quando arrivano, come diceva lei appunto, che trasportano dei sospetti o Covid accertati, seguono un percorso che li obbliga a entrare all'interno dell'hangar. Lì degli operatori dedicati sanificano il mezzo sia all'interno che la parte degli elettromedicali, gli operatori hanno un percorso dedicato per la svestizione, quindi andare in aria pulita, recuperare il mezzo, uscire dal percorso dedicato per l'evacuazione del mezzo e fare un passaggio sotto quest'arco, donato dalla ditta Bianchi Maestri di Modena, dove il mezzo viene sanificato all'esterno, compresa la parte sottostante del mezzo perché ci sono i sensori anche lì, dopodiché sanificato il mezzo, 15 secondi, quindi un percorso rapido, fuoriesce dall'aria per, una volta recuperati i dpi nuovi puliti, poter eventualmente intervenire su altri servizi. Ecco, questo arco è una novità in Italia perché per la prima volta è stato installato a Modena alcuni mesi fa e consente di pulire i mezzi all'esterno perché può capitare a volte che anche all'esterno ci siano rischi di contagio, vero? Assolutamente sì, è una donazione come dicevo della ditta Bianchi Maestri di Modena, è un arco installato per la prima volta appunto in Italia, in collaborazione con i loro colleghi della Spagna, permette appunto di sanificare il mezzo all'esterno se eventualmente, accidentalmente è stato contaminato, tenendo anche conto che eventuali persone che dovessero accedere prima di entrare in ambulanza hanno un percorso come per esempio la mascherina, l'igiene delle mani e aver calzato dei guanti proprio per evitare la contaminazione del mezzo. Se dovesse capitare di contaminarla all'esterno c'è la possibilità appunto di passare sotto quest'arco, è un tempo veramente rapido, 15-20 secondi, quindi il mezzo praticamente torna operativo nell'arco di pochi minuti. Parlando di tempi invece per la sanificazione di un mezzo dopo un intervento Covid, quanto vi prende come impegno e come tempi? Allora noi siamo passati da una gestione iniziale proprio tecnica manuale dove l'operatore a mano sanificava il mezzo e gli strumenti per essere arrivati successivamente quando purtroppo c'è stato l'aumento dei casi a utilizzare delle idropulitrici con prodotti specifici appunto su indicazioni dell'azienda. Siamo passati da dei tempi di 30-45 minuti a circa 10-15 con messa in operatività dello stesso mezzo. Utilizziamo delle idropulitrici proprio per accelerare i tempi in quanto anche questi sono controllati tramite la centrale operativa proprio per avere più in fretta possibile il mezzo operativo. Siamo passati da dei dati veramente importanti nella fase iniziale da circa 90 sanificazioni al giorno, oggi per fortuna sono calate notevolmente, però per dare un'idea in 20 giorni ad aprile solo nella stazione di bonifica di Modena in quanto ne abbiamo altre 5 a livello provinciale sono state fatte 978 bonifiche, quindi una media di 40-50 al giorno ma anche con dei picchi di 90 al giorno.